C'è stato un arresto per droga a Battipaia. La Polizia di Stato con il dirigente del commissariato cittadino Giuseppe Fedele ha posto le manette ai polsi a Franco Nigro. L'attività di polizia è stata portata avanti per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in quanto lo stesso, secondo la ricostruzione operata dalla Polizia Giudiziaria, a seguito di perquisizione sia personale che domiciliare, è stato trovato in possesso di 50 grammi di cocaina, nonché materiale per la pesatura e il confezionamento della sostanza stupefacente. Le forze dell'ordine battipaiesi continuano nelle attività di contrasto allo spaccio, situazione purtroppo sempre più diffusa su tutto il territorio locale. Anche dalla Prefettura nei giorni scorsi erano arrivate direttive per l'intensificazione dei controlli, in particolare per l'imminente periodo estivo, quando, come ogni anno, la popolazione aumenta in maniera esponenziale e con essa anche il tasso criminale e gli episodi criminosi. La vicenda in questione rientra nelle operazioni portate avanti dagli agenti, testimonianza di una presenza capillare e attenta.